ebbene carissimi amici ben ritrovati sul mio canale youtube questa sera grande festa questa sera grande botto grande vincita grande sbanco abbiamo sbancato ancora una volta abbiamo stravinto ancora una volta con il mio bellissimo e potentissimo 90 segreto non ce n'è per nessuno non ce n'è per nessuno questa è una giocata mensile incredibile e non certo sono tanti ambi parliamo di due soli ambi con il 90 cioè i migliori abbinamenti c'è anche giocare questi due ambi a tutte le ruote ogni mese è già una soddisfazione già un utile pazzesco sono sono i migliori due abbinamenti con il 90 per ogni mese con le tre migliori ruote il 90 segreto vi garantisce le tre migliori ruote mensili con il 90 mese di ottobre vi ho detto attenzione bari napoli venezia abbiamo un grande 90 prendete la previsione ho detto chi non ce l'ha la prenda la prenda modalità vincita venuta la prenda cosa abbiamo vinto sbancato alla grande secchissimo 90 44 napoli estrazione del 22 di ottobre ho ricevuto una marea di cedolini vi faccio vedere alcuni primi che mi sono arrivati proprio perché voglio portarvi subito in testimonianza questa grande vincita e vi ricordo che nel mese di settembre abbiamo vinto il 90 32 a firenze e trovate anche lì la testimonianza vincente il video sul canale cosa abbiamo vinto cari amici 90 44 napoli giocato bene giocato bene tanti bei soldini che sono arrivati in tante case di tantissimi di voi e di questo ne sono felice 44 90 napoli tutti cedolini che mi avete inviato voi e tutti coloro che hanno chiaramente la previsione del 96 che anche in questo mese di ottobre mi hanno dato fiducia 44 90 napoli bellissime bellissime vincite questa non c'entra questa c'entra nulla 44 90 napoli guardate 44 90 napoli giocato benissimo benissimo giocato benissimo quindi veramente grandi vincite grandi cedolini bellissime vincite una più bella dell'altra quindi questo è stato il grande esito cari amici che abbiamo ottenuto col mio 90 segreto sulla ruota di napoli con un grande 90 90 44 bellissimo ambo secco le ruote bari napoli venezia giocata chiarissima giocata veramente secca tre ruote due ambisecchi unica giocata mensile questa è la previsione da prendere ogni mese quindi vi invito a prenotare già la previsione di novembre il 90 segreto di novembre partirà dalla seconda estrazione di novembre quindi mi raccomando mi raccomando ho ricevuto già diversi cedolini tanti altri me ne arriveranno sicuramente perché è una giocata che era in mano a tantissimi di voi a tantissimi di voi ed è stata veramente una grandiosa vincita quindi sono molto contento di questo risultato e quando insisto su una determinata cosa sapete benissimo che poi andiamo a realizzare questi risultati questa è anche la prova ennesima che nell'otto si vince con la costanza nel gioco e con la fiducia nelle previsioni si ha costanza si ha fiducia si ottengono i risultati due ambi di fila col 90 segreto vinto a settembre a firenze vinto ad ottobre a napoli questi sono i risultati che contano questi sono i risultati che valgono questi sono i risultati veri documentati e reali io qui non faccio pagliacciate non faccio teatrini non faccio commedie ciò che avviene su altri canali io qui faccio un lotto serio è un lotto di un certo livello quindi chi mi segue sa che ci portiamo a casa risultati di spessore quindi mi raccomando a non lasciarvi sfuggire mai mai per nessun motivo il 90 segreto prenotate già quello di novembre perché poi chiaramente lo presenterò come faccio ogni mese sono contento che siamo aumentati su questa giocata dobbiamo essere ancora di più perché ci dobbiamo divertire ancora di più dobbiamo portarci a casa queste vincite ancora in più persone dobbiamo essere ancora di più sul vincite del genere e chi avrà in mano il 90 segreto porterà a casa ogni mese la vincita con il 90 un estratto che tra l'altro ho regalato come estratto ed è stato stravinto solo da coloro che hanno preso visione del video di presentazione quindi cari amici questo è tutto ho voluto portarvi in testimonianza alcuni cedolini vincenti primissimi che mi sono arrivati per questa grandiosa vincita del mio 90 segreto previsione imbattibile per adesso saluto a tutti i mister sbancolotto